Hai ragione, è incredibile, anche voi si riuscite a fare dare a questa chiesa. La parola testa al sessore, al mandiente, il giovanissimo avvocato Pasquale Timon. Ovviamente non mi ha avuto perché è la stessa cosa che ho sentito la mia chiesa. Allora, l'ultima volta che sono stato in questa sala era nel dibattito che c'era tra i due candidati, il sindaco Castola e Iudice, e tra i punti salienti di cui si dibattiva c'era ovviamente la questione rifiuti e la questione centrale che ho assi. Ovviamente Pagliano Marino mi ha rubato l'intervento, parte dell'intervento, perché oggi, con l'orgoglio questa amministrazione, vuol dire che rispetto a queste due tematiche, in questi tre mesi si è lavorato incestantemente. La Giunta, ma io direi il Consiglio Comunale e tutti gli attori che bene sono stati ricordati precedentemente, hanno investito il loro tempo, hanno investito passione e impegno per portare a termine questi risultati. E, vedete, la cosa che mi ha colpito di più investimenti, in cui ho ricoperto questo ruolo, questo difficilissimo ruolo, è stata una partecipazione viva, costante, dei comitati, delle associazioni, ma anche dei tipi di cristallini. Perché questa cosa, ovviamente, mi ha provocato per un periodo anche un po' di stretto. Correre veramente in ogni angolo della città, in ogni singolo cittadino, è sicuramente impegnativo, ma mi rende orgoglioso e soprattutto felice. E se oggi possiamo dire che Arpino è pulita, sicuramente non è perché è stato l'assessore all'ambiente, ma perché ne è creata questa sinergia tra cittadini, consiglieri comunali. Deciderei a fare un applauso ai consiglieri comunali di Arpino, che sono presenti costantemente sul territorio, che fanno quella politica che io ritengo la politica giusta, la politica di una volta, in cui si parla con il cittadino, si affrontano i problemi, e si cerco, ovviamente, di risolvere in quelli che sono, ovviamente, i limiti della risoluzione. Vedete, io credo che questa amministrazione abbia tracciato un tocco. Questo tocco è legato alla partecipazione, alla collaborazione tra tutti, e l'auspicio di tutti noi è che questo tocco continui per la realizzazione di nuovi risultati, importanti come quello di Statica. Perdonate, vorrei concludere con un altro aggiunto. Vedi, caro Mento, noi aspettiamo volante il prossimo maritetto dell'opposizione. L'opposizione, qualche mese fa, fino a che siamo interiati, ci chiedeva che cose. Una, risoluzione della posizione dei rifiuti. Due, risoluzione della posizione centrale biomasse. Tre, risoluzione del problema scuole. Diciamo che su questi tre temi possiamo tranquillamente dire di essere cirugini. Aspettiamo il nuovo manifesto, in modo tale che siamo convinti che anche sugli altri punti ci riusciremo. Grazie.